Ok, questo è un video su come trovare l'autorotazione se non è disponibile nei menu, quindi prendere dal topo, poi andate... Ok, poi se lo vedete, questo menu a destra è il 3 botone, se andate qui, pressa il botone holder, questo è il wronge, botone holder, e sul topo, vedete il free choice in there, to drag to add buttons, se lo vedete in there, vedete come rotazione in there, so pull that to the to the bottom, into the menu, anywhere, and there you have, then you press down come back on the main menu, so you press down and it should be auto-rotate, it should be on the menu, now if you see it's on the top light, ok, thank you for watching the videos, I hope that it was useful, bye!